Nel parlare della sessualità narcisistica dobbiamo fare una breve premessa e spiegare a grandi linee che cos'è l'amore e cosa avvertiamo intimamente quando siamo innamorati. In genere i poeti chiamano anima questa parte profonda e psicologica che sa amare e allora vorrei iniziare con una mia breve riflessione poetica scritta tempo fa. Che cosa fai tu anima mia qui? Dimmi che cosa fai anima silenziosa? Spunti di notte e vaghi tra le immagini contemplando le mie memorie e osando sbirciare nel mio futuro e ti soffermi su progetti arditi, ripercorri queste valli, ti sollevi alla ricerca di nuovi slanci, mai stanca, sempre curiosa. Anima eternamente giovane, nuda e pura, sorvoli montagne, oltrepassi oceani, attraversi tempeste restando intatta. Con il tuo entusiasmo sei imprendibile come il vento. Corri, vola e porta con te le mie ferite. Mostra loro una via. Solo tu conosci la direzione. Tu sai dimenticare. Sei nata nell'angoscia e già parli d'amore. Che coraggio che hai. Sai essere madre e figlia. Consoli le mie sciagure con il nettare di un nuovo sogno. Facendo di un sospiro una nuova brezza che muove il cuore. Tu sei l'antidoto al silenzio. Fecondi il vuoto. Perché tu sola sei. Dammi un senso. Fammi vedere con occhi da poeta. Voglio vivere da innamorato. Ecco, per definire meglio le caratteristiche della sessualità narcisistica abbiamo bisogno di sapere cosa sia la sessualità nell'ambito della normalità. diciamo subito che Eros è una forza che ci trascina verso l'altro alla ricerca di un confronto trasformativo. Dopo una relazione vera noi non siamo più gli stessi perché ci sentiamo arricchiti. Inizialmente siamo rapiti ma poi avviene una specie di iniziazione che ci fa perdere i nostri abituali punti di riferimento. L'Eros e più in generale il rapporto d'amore autentico ci svia dalla nostra consuetudine e ci conduce in un mondo imprevedibile. L'Eros crea un movimento interiore che stabilisce nuove connessioni psichiche. Pertanto l'amore in genera l'anima agita le sue acque e ci strappa via la nostra vecchia identità. La sloga perché dilata quell'io che crediamo di essere. Non a caso l'amore è una tempesta emotiva che travolge l'io, lo obnubila, ne dissolve i confini e proprio per questo può rivelare l'uomo a se stesso. Però prima lo lacera e poi lo ricompone attraverso il dinamismo degli opposti psichici, iniziandoci alla vita e alla morte. Insomma amare un altro significa guardarlo come un'avventura inesauribile. L'altro ci strega con la sua ineffabilità, è irraggiungibile per natura e per questo alimenta il nostro desiderio di ricerca. Ci rende vivi, tanto che l'altro diventa l'origine della nostra vitalità. Bene, iniziamo a capire che normalmente l'altro dovrebbe essere un'apparenza allusiva che incarna e fa rivivere il mio pianeta interiore. Attiva i miei fantasmi e colma il mio senso del vuoto avvolgendomi in una sorta di caldo mantello. Infatti l'altro coincide con il mio desiderio inconscio, lo evoca, così che io mi arricchisco di uno psichismo a me sconosciuto ed attingo al mio stesso immaginario che si è attivato. Questo significa che l'innamorato è colui che è in uno stato di squilibrio. Sembra vacillare dinanzi alla promessa di totalità che l'altro incarna. La sua condizione esistenziale è come quella di una nave senza nocchiero in un mare in tempesta, cioè senza bussola e disorientato. Ora, in questo scenario piuttosto normale si aggiunge la componente sessuale. Laddove l'altro disorienta la psiche, allo stesso modo il senso conturba i sensi, li altera, sconvolgendo l'assetto del corpo. Il sesso rompe la quiete del corpo e ci offre un dono, ci lascia una promessa di totalità per poi svanire. Perciò quello sessuale è un linguaggio affettivo che conserva la capacità fanciullesca di trasformare le cose e la vita stessa. Questa capacità che ha la sessualità è seducente in quanto suscita emozioni in chi è sensibile. Essere sensibili significa in sostanza avere empatia. L'empatia è una dimensione interna, uno stato d'animo di vibrazione. L'empatia è una modalità di relazione, quindi un atteggiamento affettivo che consente di sentire gli altri in maniera istintiva e inconscia. Potremmo dire che l'empatia è un'arte poetica involontaria. La persona normale è piuttosto recettiva ed empatica, quindi è aperta all'altro, mentre tutto questo manca nel narcisista, perché il narcisista non sa essere empatico, non sa sentire l'altro in maniera profonda, perciò mancano tutte quelle fasi che ho descritto prima. Nel prendere in esame la sessualità del narcisista partiamo dal concetto che con il nostro corpo noi abbiamo un duplice rapporto. Possiamo sentirlo direttamente oppure possiamo averne un'immagine. Quando sentiamo il corpo siamo in contatto empatico con il nostro sé, mentre quando abbiamo un'immagine del corpo il contatto è un po' indiretto, è un contatto più razionale. In una persona piuttosto sana le azioni sono sempre associate ai sentimenti che appunto le motivano, in quanto l'immagine del sé è in armonia con l'esperienza del sé che l'io ha attraverso il corpo. E questi due aspetti tendono a coincidere. In pratica la persona sana accetta se stessa e si identifica con le sensazioni del proprio corpo, mentre i narcisisti non hanno questa accettazione di sé, perché si sono come dissociati dal corpo, in quanto hanno investito tutta la loro libido sull'immagine dell'io e non sul corpo. Ora siccome l'amore è una condivisione di se stessi con un'altra persona, ne deriva che il rapporto sessuale sano è espressione di una condivisione armonica e globale del proprio sé, sia psicologico e sia corporeo. Quando questa condivisione manca il rapporto che ne consegue diventa un atto narcisistico, in quanto è privo di sentimenti e di affetti. Bisogna chiarire subito che la relazione tra io e sé è una relazione complessa. Senza un senso del sé succede che la nostra identità si lega esclusivamente all'io e il corpo ne resta fuori. Dunque dobbiamo tenere presente che normalmente noi siamo mossi dai sentimenti. Il nostro senso di esistere si identifica con i sentimenti e anche con ciò che pensiamo. Pensiero e sentimento devono andare insieme. Se vengono scissi nasce la patologia. Nella persona sana l'immagine dell'io si adatta alla realtà del corpo, un po' come un guanto si adatta alla mano. Nei disturbi narcisistici l'incongruenza tra l'immagine dell'io e la realtà diciamo che non è eclatante come nella schizofrenia, ma è sufficiente a produrre una scissione dell'identità. Pertanto una parte dell'identità corporea viene negata e risulta dissociata dall'immagine dell'io. Quindi cosa succede? Succede che i narcisisti trattano il corpo come un oggetto che dipende dal controllo della volontà. Freud aveva ben chiaro che nel narcisista la libido è ritirata dagli oggetti del mondo ed è diretta verso l'io, che sottrae energia psichica anche al corpo, il quale viene considerato come un oggetto. Pertanto i sentimenti che nascono nel corpo vengono negati. Ad esempio il potere ed il denaro hanno poco a che fare con i sentimenti e le emozioni corporee. Potere e denaro procurano soddisfazioni all'io, sostenendo la sua immagine, ecco perché sono ricercati dal narcisista. Il successo gonfia l'io del narcisista che perde il contatto armonico con la realtà del proprio corpo e quindi va verso la patologia. La patologia scatta nel momento in cui la persona si convince di avere doti grandiose. Quindi il narcisista si convincerà di poter sfruttare l'altro sessualmente come se fosse un oggetto. Il narcisista usa l'altro per soddisfare i propri bisogni egoistici e finisce per ferire il partner senza esserne troppo consapevole. Da quanto stiamo dicendo deduciamo che a letto il narcisista è piuttosto controllato, è meccanico. Nonostante sia seduttivo sul piano verbale usa il sesso per impressionare e stupire il partner, finendo però per soddisfare i suoi bisogni allo scopo di riempire il suo vuoto interiore. L'interesse per la performance è tipico della sessualità narcisistica che ricerca approvazione e conferme a scapito della profondità della relazione che invece resta superficiale e povera. Il partner del narcisista viene manipolato al punto che confermerà di aver vissuto un rapporto sessuale magnifico senza rendersi conto che è stato un rapporto povero di emozioni con una scarsa intimità e quasi del tutto privo di coinvolgimento affettivo. L'attenzione del narcisista è rivolta ai suoi impulsi sessuali, ai suoi bisogni. Pertanto si aspetta che l'altro sia sempre disponibile a gratificarlo in tutte le fantasie sessuali, ma i veri bisogni dell'altro vengono ignorati. Il narcisista può arrivare anche a colpevolizzare il partner se questi non lo asseconda completamente. Reagisce duramente se non viene gratificato perché non tollera il rifiuto e neanche la minima titubanza che suscita subito la sua collera, diventa rabbioso, attacca e distrugge la vittima e se non lo fa esplicitamente lo fa aggredendo passivamente, quindi usando il silenzio con accuse subdole e implicite che fanno sentire in colpa la vittima. Potremmo dire in questo modo che il narcisista bullizza la vittima. Una volta assaziati i propri bisogni e quindi una volta raggiunto il proprio soddisfacimento sessuale, il narcisista sparisce, non considera più il partner che viene lasciato solo. Questa caratteristica distingue molto bene il narcisista dalla persona normale che invece anche dopo aver fatto l'amore circonda di attenzione il partner. Inoltre il narcisista è tipicamente infedele, tende ad essere violento ed è anche dipendente dal sesso che è per lui un modo per ottenere adulazione attraverso la relazione delle persone al suo corpo palestrato. Le conquiste sessuali sono quindi in funzione del potere. Tutto serve a gonfiare l'immagine di sé. L'intimità ovviamente non esiste. I narcisisti non provano empatia e quindi non possono amare intimamente l'altro. Sono maestri della manipolazione e sanno bene come simulare il coinvolgimento affettivo. La loro è una sessualità muscolare, è una finzione sul piano affettivo, una maschera che mostra sentimenti laddove dietro c'è solo lo sforzo di apparire. Il partner in realtà viene usato e poi viene abbandonato. Questo perché i narcisisti si sentono superiori e credono di essere autorizzati ad agire al di sopra della morale comune. Il sesso del narcisista diventa quindi un puro atto meccanico, privo di intimità e di trasporto emotivo. Non a caso i narcisisti hanno simultaneamente tante relazioni e spiegano al partner di turno che gli altri partner sessuali non significano niente, che è gente utile per ottenere qualche vantaggio, perciò non costituiscono una minaccia e non vanno presi seriamente. Sono come delle prostitute. Queste dichiarazioni ci fanno capire come i narcisisti patologici hanno la tendenza ad abusare sessualmente del partner. Abusare significa usare in modo improprio. Ad esempio una forma di abuso consiste nel costringere l'altro a guardare film porno, vietando comunque l'autoerotismo al partner e quindi diventando l'unico agente di gratificazione sessuale. Questo è solo un modo per rassicurare loro stessi di essere bravi amanti. Sono egoisti e tipicamente rinfacciano il passato sessuale dei loro partner dopo la fine della relazione e li accusano di essere malati di sesso. Dunque da un lato stimolano nelle persone il desiderio di fare sesso con loro, ad esempio raccontando storie erotiche o inviando immagini a sfondo sessuale. Tuttavia possono decidere all'ultimo minuto che niente deve avvenire oppure che hanno cambiato idea. I partner si sentono umiliati mentre loro godono sapendo di ferire. Trasformano questo in un gioco sessuale prendendo anche in giro il corpo dei loro partner. Poi sono molto esibizionisti e cercano di provare tutto il possibile dalle posizioni fantasiose che vedono l'altro però sempre nel ruolo di schiavo e se sono distanti inviano immagini dei propri genitali chiedendo addirittura una valutazione o un voto. Ora il disturbo narcisistico di personalità secondo il DSM è caratterizzato da un da un quadro pervasivo di grandiosità. Poi abbiamo un bisogno di ammirazione, manca completamente come abbiamo visto l'empatia, c'è una buona dose di invidia e c'è la certezza di meritare privilegi più degli altri. Inoltre c'è la percezione di essere unici o speciali, la tendenza quindi a sfruttare gli altri per i propri interessi, la reazione rabbiosa di fronte ad una critica. Ci sono le classiche fantasie di successo, di potere, di bellezza, insomma tutte le richieste di attenzione e di ammirazione che ormai abbiamo ben illustrato. ecco se vogliamo distinguere il narcisismo sano dal narcisismo patologico diciamo che nel narcisismo sano c'è l'amor proprio ma c'è anche attenzione per i bisogni dell'altro e la persona possiede un sé piuttosto integrato. Nel narcisismo patologico invece non si riesce a vedere l'altro come separato da se stessi. Ad esempio il figlio diventa un prolungamento della madre, manca quindi la presenza di un sé coeso e c'è scissione tra le parti idealizzate e quelle negate che vengono poi proiettate all'esterno perché sono troppo dolorose da sopportare. Questa scissione porta il narcisista a non potersi innamorare. Può sembrare innamorato soprattutto quando l'oggetto del suo desiderio di conquista non è disponibile ma in queste situazioni il narcisista sperimenta impotenza e frustrazione attuando così una fase di accurato corteggiamento chiamato lovebombing e promette marie monti manipola con l'obiettivo di far cadere la vittima nella sua trappola. La preda solitamente è una persona di buon cuore, è empatica, ha spesso bisogno di colmare un grande vuoto affettivo. La preda tipicamente è estremamente bisognosa d'amore e quindi è facile da agganciare. In questa fase di corteggiamento la vittima può credere che l'altro sia effettivamente innamorato. In realtà è tutta una strategia che mira la conquista sessuale. Una volta che la vittima è stata conquistata e il rapporto sessuale è stato consumato il narcisista perde l'interesse per l'oggetto d'amore e si mostra indifferente quindi scompare all'improvviso e si dedica ad altre conquiste. Le numerose conquiste sessuali hanno lo scopo di confermare la potenza virile del narcisista mettendo così a tacere l'angoscia legata ai dubbi circa la propria identità. Il problema è che il narcisista non è in grado di investire dal punto di vista emotivo. Questo perché alla base del disturbo narcisistico c'è una profonda ferita narcisistica che consiste nel fatto che da bambini non sono stati rispecchiati e riconosciuti dalle figure di attaccamento per quelli che erano appunto i reali bisogni del bambino. Il bambino futuro narcisista è stato uno strumento per alimentare l'ego dei genitori, un oggetto da mostrare per ottenere ammirazione. Pertanto doveva essere perfetto. I genitori non avendo riconosciuto e rispecchiato il figlio hanno impedito che questi maturasse un sano riconoscimento dei propri stati emotivi sentendo soltanto la rabbia. Ecco perché durante l'atto sessuale la persona narcisista è molto concentrata sull'aspetto fisico, sulla sua performance piuttosto che sul partner. A livello inconscio il narcisista vorrebbe possedere e rovinare il corpo dell'altro che è un oggetto di conquista. Questo è di fatti quello che accade dopo. Dopo appunto che si è consumato il rapporto sessuale, quando diventa indifferente e freddo, e scatta la svalutazione e l'umiliazione. Una volta usato il corpo dell'altro il narcisista vuole solo fuggire, fuggire dal pericolo dell'intimità per andare a cercare nuove prede. Infatti ciò che viene idealizzato è soltanto l'aspetto sessuale. I narcisisti si educono come se fossero dei principi azzurri, ma poi si rivelano dei traditori seriali, con una fame insaziabile, alla cui origine c'è una vorragine spalancata nell'infanzia. Il principe azzurro si stanca presto della sua principessa. Prima la conquista, poi la prosciuga, quindi la denigra e infine la rimpiazza. E se dal di fuori sembra perfetto, nel profondo nasconde un vuoto interiore che lo rende eternamente insoddisfatto. Ora, sul piano strettamente sessuale si può riconoscere un narcisista dalle sue perversioni sessuali, cercando però di non diventare complice delle sue dinamiche. Alla base della relazione perversa narcisistica troviamo sempre qualcuno che tenta di controllare psicologicamente un altro, inducendolo ad essere perfetto per i suoi bisogni. E qualcun altro che tenta disperatamente di essere perfetto per i bisogni di costui, alimentando un circolo che si fa vizioso e quindi perverso. Come si può rompere questo circuito? Come si dice levandosi le fette di prosciutto dagli occhi? Il narcisista seduce ingannando l'altro, ostentando generosità e attenzioni. Il suo scopo non è amare, ma intrappolare l'altro con mille attenzioni che lasciano presagire un seguito molto piacevole, ma presto la favola finisce. E quando il narcisista finalmente riesce ad esercitare il suo potere sulla vittima, la abbandona. Il gioco viene smascherato se la vittima si rende conto che quello che fa non basta mai, in quanto l'altro non è mai contento, non è mai soddisfatto, né grazie a loro né grazie a nessun altro. E la ragione va ricercata in quel vuoto emotivo che il narcisista si porta dentro da quando era bambino, quando ricercava le gratificazioni di una madre che era troppo occupata. In questa situazione di mancanza di stimoli e di incoraggiamenti, il bambino sviluppa un trauma relazionale che lo obbliga a diventare in fretta adulto, bruciando le tappe della crescita, e sviluppa una sua visione del mondo, diventando l'artefice di questo mondo. In altre parole, il mondo sarà il suo mondo e di conseguenza l'altro non esiste, salvo laddove all'altro gli viene assegnato un ruolo preciso, quello cioè di vittima. Ora, dobbiamo sapere che senza un adeguato supporto psicoterapico, immaginare di redimere un narcisista è una missione impossibile, in quanto quello del narcisista è un bisogno primario di tradire. Meglio cambiare aria prima, altrimenti potrebbe essere troppo tardi. Bisogna imparare a voltare pagina, imparare a dire di no, tutelando i propri interessi e andare avanti. Bene, come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube dove troverete almeno 300 video come questo sui vari argomenti di psicologia, dal narcisismo alla psicoterapia, alla dipendenza affettiva, ai casi clinici, alla manipolazione, all'ansia, a come affrontare gli attacchi di panico, come uscire dalla depressione, dalle fobie. Troverete alcuni video dedicati all'interpretazione dei sogni e potete scegliere su questo vasto materiale per conoscere meglio voi stessi e gli altri. Se vi iscrivete al canale verrete informati ad ogni pubblicazione nuova. Poi su facebook mi trovate in un gruppo intitolato psicoterapeuti dell'anima e ho una pagina chiamata la mia psicologia. Pubblico sempre, i miei post sono pubblici quindi non serve chiedere l'amicizia. Infine ho anche un sito www.robertoruga.it dove troverete esercizi di rilassamento, fantasie guidate, alcuni scritti e anche un libro pubblicato per la casa editrice Armando. In bocca al lupo e buona visione. Arrivederci.